Ben trovati dal Tg della mobilità. Eventi in città domenica si concludono i festeggiamenti della festa dei Neantri con la rievocazione della Madonna Fiumarola che muoverà dall'imbarco del circolo Canottiri Lazio per approdare a Ponte Garibaldi. Da qui una processione raggiungerà la Basilica di Santa Maria in Trastevere attraversando il rione dalle 20 alle 21 possibili deviazioni per le linee 8H23 e 280. Cantieri da sabato e sino al 4 settembre sulla ferrovia di Trenitalia FL4. Ci saranno bus attosto dei treni tra Ciampino e Pelletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati.